Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TanZero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò. Il Podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Cinque anni dall'ultimo singolo che poi era contenuto in un album per i Gemelli Diversi. Quando uscì La Fiamma, cinque anni fa, si ebbe un po' l'impressione di riascoltare quel mood storico che li contraddistingue. Ricordo che si aveva l'impressione di un disco in cantiere che veramente poteva riportare i Gemelli Diversi al centro, dove sono stati per tanti anni, seppur spogli di membri fondamentali come appunto THG e Grido. Però poi alla fine uscì questo disco, le canzoni passarono un po' inosservate, però La Fiamma era veramente una traccia in stile Gemelli Diversi, proprio quella roba lì. Cinque anni dopo escono, tra l'altro non so se avete assistito quando fecero un medley in tv, una roba tipo Battiti Live, queste cose qui, e fecero tre canzoni classiche loro. Fu uno spettacolo, perché ragazzi i Gemelli Diversi possono passare anche trent'anni, ma quando te le cantano ti fanno godere, anche se non ci sono più i membri, sono rimasti un po' all'osso, però sono sempre i Gemelli Diversi, impazzisco per loro. E oggi escono con questo singolo che mantiene lo stile loro già dall'arrangiamento, ma che bisogna riconoscere. C'è stato un tentativo di evoluzione, di modernizzazione sia dei testi che proprio nell'improntare il brano. Che sì, ci sono uscite che possiamo trovare anche in altri dischi, non è che hanno fatto un brano diverso. Però diciamo che hanno cercato di rendersi più adatti al mercato di oggi. Lo capisci da determinate uscite, da determinate frasi, da determinati modi di approcciarsi proprio al microfono di entrambi. Quindi si vede che sono un po' confusi, hanno comunque fatto una bella traccia a livello di trasmissione, mi arriva, anche se è una canzone estiva comunque, non è che hanno fatto chissà. Però secondo me, proprio in relazione a questo, ci sta che uno cerca di fare dopo tanti anni, usciamo d'estate con una traccia estiva, cerchiamo di farla un po' più moderna a livello di testo appunto. Perché comunque vecchi sono vecchi, rispetto ai ragazzini di oggi non c'è storia, lo stile è quello, io l'apprezzo anche di più, la struttura l'apprezzo. Però devo fare un discorso poi di modernizzazione, allora sì, è vero, loro hanno provato a fare un salto avanti rispetto a quello che sono loro. Ma non è che hanno provato a fare qualcosa di nuovo, nuovissimo, sempre gemelli diversi sono e sempre due su quattro sono. Però c'è da dire che secondo me loro dovrebbero, dopo cinque anni, dovevano tornare con una tracciona immensa. Come hanno fatto con la fiamma, però ancora di più. Perché comunque noi per le loro hit storiche adesso li ricordiamo. E per le loro hit storiche li amiamo. Quindi adesso non è che si possono permettere di fare i dischi come si faceva una volta, in cui avevi magari due singoli e otto tracce che sono diciamo per chi ti segue davvero. Ora veramente credo che sia arrivato il tempo per i gemelli diversi di uscire un singolo alla volta. E deve essere una bomba ognuno perché quando purtroppo e per fortuna hai delle hit intramontabili in catalogo e quelle ti vengono richieste, poi là devi spingere canzone per canzone e riuscire a crearne una nuova, una, come quando fecero per farti sorridere per intenderci. Cioè quella è una canzone outsider fatta anni dopo i loro grandi veri successi. Però mi ricordo che spaccò di brutto, che era pompata dalle radio, che fece una caterva di visualizzazioni per quelli che erano i tempi e che comunque ti dava l'impressione che non se ne fossero mai andati. E questo è il discorso. Invece adesso fai questa... ogni canzone che fai, se sei i geni diversi, può sembrare una brutta copia del tuo passato, del tipo che dai cantaci, fate le piazze di paese, vaffanculo, rompeteci i coglioni, fateci cantare Mary e siamo tutti felici. E invece secondo me i geni diversi hanno ancora qualcosa da dire e hanno ancora le capacità per prendersi le nuove generazioni. Credo che è vero questa traccia sia un primo passo e come primo passo è un ottimo primo passo, se lo vogliamo mettere sotto questo punto di vista. Però adesso ci serve la canzone che... quella tipologia di canzone che ti contraddistingue, che cattura tutti. Ad esempio, i zero assoluto sono stati bravi. Ragazzi, le generazioni di oggi, se hanno confuso l'amore con nulla, se oggi non credono più al per sempre, se oggi è tutto diverso, è perché questi non sono cresciuti con zero assoluto gemelli diversi, sia chiaro, sia chiaro. Proprio loro ci hanno proprio insegnato determinate nozioni sui sentimenti e sulla nostalgia. Nulla da dire. I zero assoluto sono stati bravi a rinnovarsi, diciamo... Ecco, ad esempio, vuoi fare una cosa moderna? Fammi il pezzone, anche vecchia scuola. Poi magari nel video, come in zero assoluto, misero due tiktoker che si... che si baciavano, che sono appena rimessi insieme, famosissimo, la canzone diventò virale, già solo per il video. Che è una... che è una... è una marchetta allucinante, è una cosa che io personalmente non... non... non sono d'accordo. Però... onora al merito, chapeau. Cioè, i zero assoluto tornarono in tendenza. E ce ne vuole. Ce ne vuole dopo tutti questi anni. Ecco, loro sono stati bravi a sfruttare i mezzi e... e c'è da dire che i zero assoluto si sono proprio rialzati. E... erano... Potevano essere proprio completamente finiti. Erano finiti. Cioè, neanche quei brani in catalogo classici pompavano più a un certo punto. Anche se pompano per sempre. E... e quindi di conseguenza, boh, secondo me, se vogliono fare i moderni, devono... fare il marketing moderno. Ma la sostanza... I gemelli diversi, quelli che sono... e... quelli che erano... deve essere anche quelli che saranno, ecco.